Amici telespettatori, amici dei social, questo è un servizio che non avrei voluto mai fare. Ci ho pensato, però ho detto va fatto perché la polvere non va messa sotto il tappeto e scusatemi la brutalità, la volgarità dell'espressione, chi amministra e chi non riesce a dare risposte al cittadino va sputtanato, scusatemi, ripeto, l'espressione forte. Ci troviamo in via Vasari, una delle estreme periferie di Taranto, ci troviamo a Talzano e ci troviamo in casa di una persona, il signor Giovanni Lecce, che è un disabile, una persona disabile invalido, civile al 100%, con accompagnamento affetto da Alzheimer e lo vedete, poverino, è ridotto in un letto e ha seri problemi, diciamo problemi di Alzheimer gravissimi, problemi in patologie respiratorie correlate, attacchi di epidessia. Cosa c'entra tutto questo? Beh, che questa persona quando è colpita da una di quelle crisi che lo vedono sospeso tra la vita e la morte, e non è esagerazione, vedete quando accade questo ci sono difficoltà persino per l'ambulanza per arrivare, perché non c'è una segnaletica che indica quale caspita di strada sia questa. Immaginate cosa accade d'inverno con la pioggia, quando l'ambulanza, ripeto, gira a tentoni per cercare di capire, di sapere dov'è la via, dov'è l'abitazione specifica della persona. E vedete tutto questo che viene a crearsi, a verificarsi, eppure sono state fatte segnalazioni, perché possiamo capire il cittadino che si trova con la strada allagata, ma quando parliamo di un disabile che si trova prigioniero della propria casa, con un'ambulanza che lo facciamo capire meglio, anche molte volte il 118 ha difficoltà ad arrivare, non è una difficoltà soggettiva, ma è una difficoltà oggettiva, perché poi ovviamente gli operatori del 118, gli operatori sanitari, non possono sapere tutti i dettagli di queste vie periferiche, con la beffa assurda che c'è un'ordinanza prefettizia. Il prefetto ha stabilito che questa strada, per ragioni innanzitutto di sicurezza, deve essere asfaltata, resa vivibile, è munita di pubblica illuminazione, alla faccia dell'ordinanza prefettizia. È una persona, un povero Cristo deve rimanere in queste situazioni. E se per esempio accade, si verifica una crisi respiratoria e l'ambulanza perde tempo ad arrivare perché non riesce a trovare la strada, o si trova impantanata nel lago più assurdo dell'inverno piovoso, dove sembra che ci siano alluvioni, beh se questa persona facendo i debiti scongiuri dovesse non farcela, chi risponde? Rispondono le omissioni amministrative. E allora signori cari, io mi divertirò con voi, quando vi candiderete? Voi mettete i bigliettini elettorali, mettete i volantini e io metto le condizioni di questa strada e il disabile che si trova in queste condizioni. Vi faccio io una bella campagna elettorale. Questo è giornalismo di inchiesta, è un giornalismo, siccome le mie trasmissioni sono autoprodotte, autogestite e autofinanziate, mi pago le trasmissioni con la pubblicità, non chiedo niente a nessuno, non ho i soldi statali, non ho contributi statali, non ho editori al di sopra di me, posso dire quello che voglio e posso dire che questa situazione fa schifo, fa schifo. Taranto è una città da terzo mondo, che piaccia o no, questo è un disabile, dove viene rispettata la sua dignità di essere umano prima ancora che di cittadino. Magari avranno anche il coraggio di chiedere il voto ai familiari, sapete cosa vi dico? Sbattete la porta in faccia, è tutto, scusate lo sfogo.